Ciao a tutti e benvenuti alla terza giornata del torneo Mavericks. Ci troviamo in presenza delle squadre Enriquez Gatsprom e Urbani Mastrogeppetto Vintage. La partita è terminata con un risultato 3 a 3. Abbiamo Emilio Marfuggi, Giuseppe Panico, Amedeo Feroce, Borrelli Gianluca e Zio Farina. A segnare sono stati per la squadra Gatsprom 2 per Borrelli F ed 1 per Farina, mentre per Mastrogeppetto Vintage 2 per Esposito e 1 per Jura. Cosa ne pensate della partita? Bella partita, ci siamo divertiti, combattuta fino all'ultimo. Finalmente abbiamo fatto un punto che stiamo ancora a zero contro una delle squadre che sta in testa al girone. Quindi è andato molto bene oggi. No, niente, non puoi dire niente. Niente? Tu? È stata una bella partita, un po' combattuta. Purtroppo a noi ci mancavano 5 persone. Noi che non giocavamo mai, purtroppo non la facevano. A noi ci ha penalizzato la stanchezza perché eravamo 8 giusti giusti e siamo stati sfortunati. Va bene, c'è qui chi ha segnato Farina e a chi vogliamo dedicare il gol? A Roberta Mancuso. Mentre qui c'è chi ha segnato? C'è andato a fare la doccia. Va bene, quindi secondo voi... Io lo dedicavo a te, Kong. Grazie, va bene, quindi un bacio alla prossima.